l'intervista migliore in campo con tal di dei sì 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 vip club che partita terminata contro gli atleti coglioni si si ma puoi fare quello che vuoi tanto c'è anche un bel pubblico femminile che c'è complimenti complimenti com'è stata la partita sarà una bella partita l'esordio per la prima volta che giochiamo insieme ripeto se invece sei coso no ok sei abituato a fare i tempi migliori in campo siamo stati tutti molti bravi anche il portiere ha fatto delle bellissime parate siamo divertiti e tutto fuori si è sentita l'assenza di abbondanza per niente no no la prossima ci sarà poi vediamo se in tribuna la perenza o no puoi fare qualche piccolo ringraziamento complimenti a tutti complimenti nuovo per la tua ottima prestazione e un saluto e ci vediamo la prossima partita ciao ragazzi ciao a tutti ciao ciao